Un plafon di 100 milioni di euro stanziati da Biperbanca grazie a un protocollo di intesa sottoscritto oggi per supportare gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo legati all'utilizzo del Super Sisma Bonus, Super Bonus 110% e Sisma Bonus. Notizia importante considerando le difficoltà legate al Super Bonus che ci sono state ultimamente e che hanno rischiato di compromettere molti lavori a danni di cittadini e imprese. Questa credo che sia una dimostrazione concreta di quello che Biperbanca vuole fare per il territorio dell'Aquila e per i cittadini dell'Aquila credo che sia oggettivamente una formula efficace ed efficiente proprio per cercare di cogliere le situazioni fiscali che in questo momento sono più confacenti. Ritengo che sia assolutamente utile notare la tempestabilità con cui abbiamo risposto ai segnali che ci sono arrivati dal territorio quindi io la vedo come un'operazione assolutamente fatta in tempo, nei tempi corretti, con l'Aquila e per l'Aquila. L'accordo recepisce la deroga prevista dal Governo e varata dal Parlamento che consente fino a tutto l'anno 2025 di beneficiare del Super Sisma Bonus 110% in abbinamento sia alla cessione del credito di imposta che allo sconto in fattura. Le imprese scritte all'anagrafe hanno spiegato i presenti potranno presentare a Biper la richiesta per avere un plafon dedicato alla cessione dei crediti di imposta che sarà sottoposto ad analisi istruttoria da parte della banca. Biperbanca per sottolineare la sensibilità nei confronti del territorio del cratere 2009 ha deliberato di formalizzare un protocollo d'intesa per un plafon pari a 100 milioni di euro a favore delle imprese che gestiscono la fase della ricostruzione del Sisma 2009. È una bella notizia per il territorio, è una bella notizia per le nostre imprese e anche per le famiglie perché credo sia un momento di ripresa e di interruzione di uno stallo che evidentemente era presente.